A posto, non ci sono più domande sulla ricerca DOCS, adesso abbiamo qui già al tavolo con noi Saverio Caldani che invece ci illustra un survey sul valore che abbiamo realizzato e predisposto proprio per l'occasione degli Stati Generali. Abbiamo perché è un survey che è partito da Firenze se non ricordo male e diciamo che lo vediamo ancora come primo pilota, è ancora una terza vista rispetto alle altre due che abbiamo visto, abbiamo solo provato a chiedere con un questionario effettivamente ai nostri clienti come hanno percepito il lavoro della consulenza. Quindi non abbiamo fatto altro che strutturare un questionario, sottoporlo in forma ovviamente anonima ai nostri clienti per cercare cosa fare, innanzitutto misurare il valore percepito dai nostri clienti, dal nostro lavoro e dall'attività di tutti i giorni. Vedere quali possono essere eventualmente dei margini di miglioramento ed eventualmente, ma è una cosa che ancora dobbiamo fare, forse sarà l'aggiunta o non so Carlo, chiedo a Carlo come vorremmo procedere, poi questo probabilmente lo dovremo definire. Vedere quali possono essere delle attività o di riposizionamento o di ripensamento, quali temi possono essere di utilizzo e di analisi successiva. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di erogare ovviamente a un numero di aziende rilevante e abbiamo ottenuto circa un centinaio di risposte da singoli utilizzatori di consulenza, vedremo poi che tipologie di aziende. Abbiamo provato a identificare punti di forza e di miglioramento, abbiamo anche provato a chiedere qual è il valore che loro percepiscono, ovvero sia rispetto allo speso quanto loro percepiscono di valore del nostro lavoro e sulla base di questo probabilmente dovremo cercare, cosa che ancora non abbiamo fatto, di tirar fuori delle linee guida o delle attività di sviluppo da questo punto di vista. Altra cosa da decidere è se questo poi una volta ristrutturato, torno a ripetere, è un'attività pilota che abbiamo fatto esclusivamente all'interno di Also Console con un gruppo di lavoro, quindi va capito se poi ne vorremmo dare una maggiore strutturazione negli anni successivi. Sostanzialmente l'astruttura del questionario qual era? Profilazione dei nostri clienti, quindi cercare di capire classi di appartenenza, settori di appartenenza, tariffa media giornaliere e livelli di soddisfazione, come hanno percepito l'esecuzione del nostro progetto, quindi come il cliente ha percepito il progetto di consulenza svolto, quali sono stati gli effetti di questo progetto all'interno dell'organizzazione, sia in termini di valore aggiunto che in termini di trasferimento del know-how e percezione da parte dei dipendenti dell'azienda di come hanno utilizzato la nostra attività e il valore aggiunto che abbiamo lasciato nelle aziende nostre e i nostri clienti. Quali sono state sostanzialmente le rispondenti? Ovviamente qui facciamo ricorso non a chi abbiamo inviato il questionario, ma assolutamente solo a chi ha risposto al questionario. Nella parte sinistra della slide vedete le industrie di riferimento, quindi Energy Utilities, Sanità e Assistenza, Attività Finanziare, Automotive, ICT e Attività Manifatturiere, nelle altre sostanzialmente c'è l'attività pubblico, trasporti e attività di servizi. A chi è stato rivolto, più che a chi è stato rivolto, chi ha risposto in modo maggiormente massivo? Società come vedete il 30% sono tra i 50 e i 250 addetti e altra grande parte dei rispondenti superiori ai 10.000, quindi abbiamo avuto una clusterizzazione tra le piccole e le medie e le effettivamente grandissime. Classi di fatturato, questo riporta da 1 a 10 milioni fino a 100 e a 1 milione, a 1.000 milioni, grossomodo a un 18%, mentre le veramente grandi coprono il 32%. La spesa di consulenza invece sembra abbastanza non clusterizzata. Il tema grosso che secondo me anche qui emerge è la tariffa media, come vedete la maggiore incidenza è tra inferiore ai 500 euro, e tra i 500 e i 1.000 euro di effettivo speso, quindi quanto i nostri clienti vanno ad acquistare. Qui non ho fatto la domanda perché sembrava polemica, va benissimo che il presidente di Confindustria chiede consulenze di valore, ma le consulenze di valore vanno un po' pagate e è un tema che purtroppo almeno nella vita di tutti i giorni la rivestiamo perché è verissimo che poi non lo denunciano, ma tutti i giorni sono gli uffici acquisti a fare da padrone e 500 euro se lo carichiamo tutti i giorni fate facilmente il conto quanto è il ricavo, se mettete i margini possiamo mandare una risorsa che forse se la paghiamo correttamente dai 4-5 anni di esperienza non può dare un valore di elevato livello strategico o di vision, quindi questo forse è un tema di riflessione all'interno di Asso Consul e all'interno dei nostri clienti. Il livello di soddisfazione invece con un po' d'orgoglio si polarizza sul valore 4, quindi non hanno rilevato tranne alcune problematiche particolari. Sull'esecuzione del progetto oggettivamente almeno coloro che hanno risposto, ma questo è anche abbastanza normale, riconoscono che non avrebbero aggiunto gli stessi risultati all'89%, mentre dicono che non hanno avuto particolari benefici l'11%, la condivisione del rischio è un altro tema che viene trattato e sostanzialmente lo giudicano che le società a consulenza condividono il rischio in modo medio con i propri clienti, forse questo è un altro tema che può portarci al ragionamento sulla base di come la società si è integrato, come il consulente si è integrato in azienda, che è un altro tema sempre delicato. Possiamo dire che il 97% lo giudica positivo, diciamo 60% sicuramente in modo eccellente, il 37% dice che ha cercato di integrarsi. Se si avvarrà di quella società di consulenza o della società di consulenza che ha operato sostanzialmente confermano che ci si avvarrà di consulenza probabilmente non esclusivamente di quella che è stata usata. Tendenzialmente però anche il lato innovazione della soluzione proposta è un dato positivo perché ci dicono che nell'82% dei casi hanno trovato le soluzioni proposte raggiunte insieme e soluzioni innovative e utili quindi alle finalità del progetto, probabilmente l'altro punto di ragionamento sono i due primi cluster, quindi come si poteva migliorare definendo prima in modo più chiaro gli obiettivi e partecipando maggiormente allo sviluppo della soluzione potrebbero essere due ulteriori indicatori di ragionamento e di approfondimento da parte di Asso Consult su come migliorare l'esecuzione del progetto. Dal punto di vista degli effetti sull'organizzazione del cliente sostanzialmente le società rispondono che hanno trovato un giovamento nella crescita del proprio personale, il 42% sicuramente riconosce che il consulente ha favorito la crescita media del proprio personale anche in termini professionali, il 39% ha notato un certo stimolo, purtroppo il 20% che secondo me comunque rimane una percentuale rilevante, dice che non ha trovato nessun tipo di beneficio. Anche da un punto di vista di conoscenza e di trasforimento di conoscenza notiamo che la polarizzazione, quindi sopra il 50%, riconosce che la società di consulenza ha apportato all'interno della propria organizzazione uno sviluppo di quelle che sono le capacità e la conoscenza all'interno dell'azienda. Lato miglioramento, quindi che miglioramento ha portato all'interno dell'organizzazione nell'intervento di consulenza possiamo dire che sostanzialmente il 75% si classerizza tra l'abbastanza e il monto, quindi anche qui ritengo che possa essere un dato positivo e come l'altra domanda fatta probabilmente non si sarebbero raggiunti gli stessi risultati per l'80% all'interno se le società avessero provato a svolgere questa attività in modo autonomo. Valore aggiunto, sostanzialmente si è provato a dare due diverse visioni, una più qualitativa e una un po' più quantitativa sebbene ancora in fase di definizione e mi riferisco alle due domande che sono nella parte bassa della slide. Sostanzialmente il 74% riconoscono che il valore all'organizzazione in modo quantitativo è stato proporzionale all'investimento svolto. L'altra parte invece abbiamo provato a ragionare su quanto è effettivamente un euro speso quanto ha ridato il ritorno all'azienda. Ovviamente non è fatto con modi statistici precisi ma è stata una domanda secca e vediamo che il numero va da 1 a 3, per vederla in positiva probabilmente buona parte delle nostre aziende sostengono che un euro speso corrisponde a tre volte l'investimento fatto quindi ci dà un valore di quanto i soldi spesi in consulenza ritornano probabilmente un ragionamento andrà fatto sulla parte bassa della slide che ci dice che nel 26% anche dice che è un rapporto 1 a 1 quindi quello che è speso bene o male viene ripagato dall'attività di consulenza. Sostanzialmente il summary è quello che ci siamo detti perdonatemi ma per recuperare un po' di tempo con Carlo ci siamo detti di cercare di accorciare l'esposizione quindi tendenzialmente in modo molto sintetico l'esecuzione del progetto è un sicuro punto di forza si notano effetti positivi sull'organizzazione con un buon valore aggiunto probabilmente occorre fare ancora dei ragionamenti e degli sforzi su come andare a moltiplicare o dare valore effettivo in termini economici a quella che è l'attività da noi portata avanti. Grazie Saverio.